Sono Donato Fusco e mi occupo di fotografia. L'Associazione dei Lucani a Genova, nella persona del Presidente Mauro De Salvo, ha organizzato nello splendido Palazzo Tursi una mostra fotografica con le mie opere di luce e poesie della mia Basilicata. Mostra itinerante che si è aperta l'anno scorso nel Palazzo di Giustizia di Cordoba in Argentina. La mostra si terrà dal 10 al 14 dicembre e l'obiettivo è anche quello di far conoscere la Basilicata non soltanto attraverso le immagini ma anche attraverso gli altri protagonisti. In questa occasione hanno aderito alla mostra il Comitato Matera 2019, la Lucana Film Commission, Rete Cinema Basilicata, Cinema da Mare e il Laboratorio di Arte Permanente. Inoltre il Comune di Tursi, il Comune di Genova e il partner tecnico Video 1. Grazie a tutti.